Ci sarà un fischio, giudice, iniziamo con il fischio, 3 euro via, lo ti va a dire, ok? Ale, come sei messo? Tanto un ringraziamento ai giudici della federazione cronometristi, scusate, della federazione italiana cronometristi sezione di Savola, perfetto. Faccio un minuto adesso? Ditemi voi. Abbiamo un minuto, attenzione, aspettate per tutti, escluderò per poesia. Ciao, escluderò. Aspetta, aspetta un secondo. Ginetto, ci guarda, saluta Ginetto. Ciao. Questa si vuole, attenzione, aspettate, io via, eh. 1, 2, 3, 2, 1, via, ok? 3, 2, 3, 2, 1, via. Attenzione. 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 20. Guardate i numeri rossi, dieci, tre, due, uno, via! Guardate i numeri rossi, dieci, tre, due, uno, via! Attenzione, cinque, quattro, tre, due, uno, via! Allora, partendo piano, secondo disco da otto, e cinque parla, attenzione, Rolando Vangaro sulla destra. Rolando Vangaro, bellissimo, sulla destra qua, bellissimo. Guardate, 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 guardate! Razzolo Romagnone sulla sinistra, Razzolo Romagnone sulla sinistra. Razzolo Romagnone sulla sinistra. Arreco Ottonello, Arreco Ottonello sulla sinistra. Guardate, 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 guard Grazie